Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, nuovo mese, quindi nuovo video, svuota la spesa, siamo andati di nuovo appunto dai perlando, già che per la festa siamo stati dai miei, e quindi abbiamo fatto un po' di spesino. Allora, questa volta ho letto bene, ho guardato bene, ho controllato una per una e ho preso il macinato giusto. Quindi abbiamo preso 5 di macinato di Sorana. Qua, dopo mia madre va messi in freezer, quindi per quello li vedete congelati. Quindi abbiamo un altro, siamo a 3. Poi ho preso del petto di pollo, mezzo chilo appunto di petto di pollo. Qua, altri due di macinato. Come potete vedere questa volta sono giusti, quindi appunto 5 confezioni di macinato, che tanto noi mettiamo nel freezer. Poi ho preso uno di burro da 250 grammi. Poi mozzarella, questa qui, Santa Lucia Tris, che è sempre in offerta, quindi prendo sempre questo qui. Poi questo qui, grana padano dop, un bustino, tanto la mamma di fretta. Poi altra carne, ho preso questo qui per il bollito, quindi per fare la minestra. Poi un arrosto, sempre buon rolaia, con gli spinaci. Ho preso dell'altra carne per fare il couscous, che tanto io ho questa carne qua, poi la mangerò il mio compagno e non mangio così male la carne. Poi del formaggio, questo qui al fontal. Un Gator, un Energate, che in realtà ci ha dato mia madre. E poi, in offerta a 80 centesimi, la gran piatta della Roberto. Poi ho preso le sue solite macedonie, queste qui, ha l'ananas, queste solo con ananas. Poi ho preso una glassa classica, quindi aceto balsamico, di questa qua, della De Negris. Ah, credevo di aver preso quella Ponti, vabbè, non importa. Poi quattro passate di pomodoro della Pomì. Poi ho preso il pane per lui, appunto il pan carré della Mollino Bianco. Appunto, sono andata a fare la spesa con mia madre, perché il mio compagno appunto era un po' influenzato. E quindi ho preso questo qui. Per me, invece, ho preso questa qui della Morato American Sandwich. C'era il pacco grande. Un pacco di cracker della Doriano, quelli salati. Poi, delle patatine, quelle russiche, queste qua bianche. E poi gli ho preso un pacco di gocciole. Ho fatto, ragazze, scorta di pasta, così poi siamo al posto. Ho preso queste qui, penne mezzane rigate, comunque belle, penette lunghe. Sempre pasta reggia. Poi, mezze penne semplici. Poi, vabbè, passiamo, ho preso ceci, fagioli, appunto altri ceci, fagioli e fagioli. Poi ho preso due, no, un pacco di tortiglioni, questi qua, io li chiamo, vabbè, tortiglioni. Questi lunghi. Poi, queste qua, mezze maniche. Un pacco di conchiglie. Un altro pacco, appunto, di rigatoni. Un pacco di fusilli. Un altro pacco di mezze penne. Poi ho preso le lasagne, queste qui della barilla, le emiliane. Mia madre, poi, vabbè, mi ha dato questo pacchetto di pasta di fusilli. Ho preso delle altre farfalle. Poi, un altro pacco di mezze maniche. Due confezioni di spaghettini della barilla, questi qui sono il numero 3. Una confezione di barilla, questi qui sono i fusilli. Poi, una confezione di couscous, questa qui. Il gran purè, che è molto buono, questa qui della Knorr. E poi, un pacco di uova. E per finire, la busta con tutte le verdure. Allora, un'insalata, questa qui, lattuga iceberg. Poi, un sacco di marette di patate. Queste qui, sì, patate gialle. Aglio. Poi ho preso due cavolfiori, questi qui bianchi, insomma, i classici cavolfiori. Ho preso tre peperoni gialli, una rete di cipolle bianche, una confezione di cavoletti di Bruxelles. Poi, queste qui, che sono le cime di rapa, che sono le arielli, insomma. Una confezione di carotte. Qua poi ho preso un po' di pomodori, questi qui tondi grandi. Poi, sedano, una verza e, infine, dei broccoli. E niente, ragazze, questa è la nostra spesa. Io mi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!